Sono Giovanni Ascione, ho 29 anni e vengo dalla provincia di Napoli. Lavoro in costa e ho cresciuto da 9 anni e il mio ruolo è chef pestriman. Mi chiamo Federica Fiorenza, vengo da Taranto e ho 24 anni. Sono 3 anni che lavoro in costa, faccio la chef dei parti pestri. Il mio percorso in costa è iniziato tramite un semplice colloquio e avendo come ispirazione mio zio, che sono circa 30 anni che lavora qui in costa, avevo questo desiderio sin da piccolo. Il mio percorso professionale è iniziato tramite l'ITS, che è un percorso formativo finanziato da Costa Crociere e dalla regione Liguria e ti permette di integrare gradualmente dentro l'ambiente lavorativo di Costa Crociere. Una giornata tipo è andare la mattina in pasticceria, controllo tutti i standard della compagnia e la mattina verso le 9 insieme all'esecutivo chef e noi su chef facciamo dei meeting per quanto riguarda il menù e se ci sono eventuali informazioni importanti da dare. Comunque in pasticceria ci sono tante nazionalità, quindi ognuno con la propria mentalità, con il proprio modo di lavorare, quindi diciamo che quella è la difficoltà principale. Un evento che mi ha realizzato particolarmente è stato partecipare all'oste di Milano e ho avuto il piacere di assistere il nostro corporate che rappresentava Iginio Massali. Sono soddisfatto, sono partito da terzo pasticciere, ho fatto tutti gli step prima di arrivare alla posizione attuale. Mi raccomando Costa Crociera perché comunque investi molto sui giovani. Riesce a farti crescere dal punto di vista professionale.